Ciao a tutti! Allora faccio questo video al volo perché sono morta dalle risate dopo aver visto il video della storica a cui faccio i miei complimenti sia per il canale che per l'ironia perché credo che sia una fine umorista veramente e volevo dire anche la mia su quello che è successo perché ha confuso me che ho i capelli rossi e tinti e comunque sia ho un tipo di fisico piuttosto asciutto, sono anche piuttosto magra con la storica che invece ha i capelli neri e l'unica cosa che forse possiamo avere in comune è gli occhi scuri, poi io ovviamente non penso che sia una brutta donna, anzi secondo me quando si trucca è anche carina ma non ci assomigliamo per niente, comunque ci ha confusi ed è riuscito a dire tanti di quelle cazzate che veramente una persona non riesce a stargli dietro a me ha cercato di dare della prostituta soltanto perché io veramente svolgo il mio lavoro da casa e comunque ci sono tantissime persone, traduttori che svolgono il proprio lavoro da casa poi si è corretto perché lui mi ha solo dato della sporcacciona quindi io praticamente ho degli abiti tutti distrutti secondo lui poi ha tirato fuori Gesù Cristo come ha detto lei, Plinio il vecchio credo perché ce ne sono due, Plinio il vecchio e Plinio il giovane poi ha detto comunque sempre che lui ne sa più di me perché lui ne sa più di me punto comunque che io non sono laureata perché uso un linguaggio molto basso e lo insulto sempre invece lui mi ha sempre detto cose molto carine tipo darmi della fruttana poi voi non lo sapete ma lui ai tempi aveva continuato a mandarmi messaggi sulla mia posta privata perché è proprio ossessionato questo tipo di con me perché se una ragazza gli scrive un commento tipo vaffanculo lui pensa subito che sono io cioè non è che può stare sul cazzo a qualcun altro, no no, deve solo stare sul cazzo a me quindi ha accusato la storica di cose che lei non ha mai detto, non ha mai pensato poi ho scoperto di avere una setta perché lei è una mia adepta secondo lui io non sapevo neanche di avere questa setta, io ero a farmi i cazzi miei a studiarmi tedesco che è difficile e ho scoperto di andare nei canali altrui senza la mia vera identità perché io infatti lo facevo da privato quindi mi sto divertendo tantissimo e anche la storica si sta divertendo tantissimo e la ringrazio per le informazioni su Carlo Magno perché sembra che noi non sappiamo chi sia Carlo Magno sembra che Carlo Magno sia una cosa che tutti i laureati devono assolutamente sapere quindi se voi siete laureati in ingegneria informatica e non sapete chi cazzo è Carlo Magno o non ve lo ricordate più perché dieci anni che non leggete niente di Carlo Magno siete degli stronzi e la laurea vi sarà ritirata subito perché lui ha deciso così quindi non prendetevela con me, andate da lui nel caso vi giri il cazzo io vi ringrazio e mi sono divertita tantissimo a seguire tutti questi deliri cioè veramente devo ritirare fuori i baffi di guerra e ricominciare a fare deliri maschili devo veramente comprarmi anche dei baffi finti perché c'è da morire e da ridere comunque volevo ringraziarti Stefano perché domani è il mio compleanno e mi hai fatto proprio rotolare delle risate ah che bello avere a che fare con un personaggio del genere sei proprio scusami veramente una persona comica, grazie io vi bacio e vi abbraccio tutti scusate se non ho il trucco, se faccio veramente cagare ma come ho detto io ho fatto questo video al volo e me ne sbatto le balle ciao ciao